Siamo alla riunione operativa del meetup di Mazzara del Vallo, accanto a me il candidato sindaco Nicola Grutta per Mazzara del Vallo e Movimento 5 Stelle. Come procedono i lavori? Procedono molto bene, diciamo che tutti i gruppi di lavoro stanno sintetizzando e stiamo ultimando la redazione del programma. È un programma aperto, nel senso che il fatto che chiudiamo e sintetizziamo dei punti da poi presentare alla città non significa che non possano essere aggiunti altri. Il primo punto del programma sarà Amore per la città, abbiamo deciso di scriverlo, ma l'ultimo punto sarà Varie ed Eventuali, perché l'ascolto deve essere continuo, i cittadini devono essere partecipi dell'azione del Movimento 5 Stelle. Quindi in qualunque momento si volesse discutere, aggiornare, devono andare avanti le buone idee, le buone proposte e queste possono essere sempre prodotte. Come sta reagendo la cittadinanza e il meetup cresce? Devo essere sincero, Piera, il meetup cresce, nel senso che sono molti di più coloro i quali si stanno proprio attivando. Magari molti stavano a casa, come questa sera, a vedere la partita della Juventus e dell'Inter, che vinca il migliore. Però nell'ultimo periodo molti hanno voluto partecipare attivamente ai gruppi di lavoro, hanno voluto partecipare attivamente sia alla redazione del programma, ma poi a quella che è l'attività vera e propria, che porteremo poi al vaglio dei cittadini a fine maggio, primi di giugno 2019. Cosa ne pensi delle ultime candidature che sono uscite fuori qui a Mazzara del Vallo, per esempio quella del dottore Bianco? Allora, sinceramente non penso assolutamente nulla, perché siamo molto concentrati, sono molto concentrato sulla proposta che vogliamo fare alla città. A quella ci concentriamo, cioè uno che ha l'ambizione di candidarsi è libero di farlo. Credo che entrare nel personale sulle decisioni altrui sia errato, anche perché l'obiettivo è il bene della città. E nel bene della città, personalmente, non includo assolutamente le polemiche con gli altri che non sono dei nemici, per me non sono neanche degli avversari, sono delle persone che stanno proponendo altri programmi, altre logiche. Sicuramente non le logiche porteremo avanti noi, perché noi non portiamo assolutamente avanti la logica dello scambio, non ci interessa assolutamente niente. Porteremo avanti invece la logica della competenza, la logica della proposta. Lo dico a tutti i cittadini, chiaramente non firmerò nessuna cambiale politica con nessuno. L'impegno io non ce l'ho con alcuni gruppi, con alcune lobby. Io ce l'ho con la più grande lobby mazzarese, ovvero tutti i cittadini mazzaresi. Io firmerò cambiali con tutti i cittadini mazzaresi, perché mi occuperò, ci occuperemo del bene comune di questa città, che significa includere il bene proprio di ogni singolo cittadino. Anche perché se prendiamo avanti una logica dello scambio del favore, spero che nessuno voti con questa logica, con la logica dello scambio del favore si finisce nella solita situazione, ovvero che si fa l'interesse di pochi e non l'interesse della città. E' al furia di fare in questa maniera, questa città è finita in un impasse che tutti i nostri giovani ma anche i meno giovani stanno vivendo ed è sotto gli occhi di tutti.